L'emergenza coronavirus e le iniziative di incoraggiamento e di sensibilizzazione, soprattutto verso la prescrizione, del restate a casa. E il Quartet Folk ha pubblicato la versione homemade fatta in casa del loro brano Gira, Vota e Ferria. All'opera Dario Mantese, Ciccio Carnabucci, Gerlando Barbadoro e Antonio Cannella, i componenti del Quartet Folk, band agrigentina di musica popolare siciliana. E per la versione casalinga di Gira, Vota e Ferria hanno partecipato alcuni musicisti che hanno affiancato il Quartet nel corso dell'ultimo tour di concerti, ovvero Andrea Banadia, batteria e percussioni, Marco Zammuto, contrabbasso, Federica Mosa, violino e Gloria Scorsone, voce. Il Quartet Folk 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 All'occa luna è il cibo in giudizia, la doppia pizza che non posso sbordare, e all'amici non s'accio più che diri, lo sanno tutti che mi faccio i stessi ammari. E mi dò anche un zio, un ammalato, un sorriso tra bambini e un po' scuri, e per te quando ne esci mi puoi dirmi parlare, e dirmi ciao, mi faci se innamorare. Ciao e più via, e adesso le zanfina, ciao e più via, che mi resta la tua bambina. Ciao e più via, e adesso le zanfina, ciao e più via, che mi resta la tua bambina. Ciao e più via, e adesso le zanfina. Andrà tutto bene. Ciao e più via, e adesso le zanfina. Ciao e più via, e adesso le zanfina. Grazie.